Stadio Olimpico di Roma, primo anticipo della ventottesima giornata di Serie A, la nona di ritorno, Roma-Fiorentina, amici di Teleradio Stereo, ben trovati e buonasera da Gabriele Ziantoni e Marco Varello Rossomanto. Occhio a Josipilicic, riparte Latino Costa nella sua mità campo, nel cerchio di centrocampo, ora largo per Marco Salonso, Pjanic, tracenta il passaggio per Borca Valera, quindi riparte il controback romanista con Momo Salah, sulla destra si accentra verso Mire Pjanic, davanti c'è il Sharawi, sulla sinistra invece c'è Perotti, parla buona per Salah, costa al centro per il Sharawi! E il Sharawi! Roma 1, Fiorentina 0, ancora il faraone al ventunesimo. tutto fatto molto bene, con i tempi giusti, inserimento di Salah, bravissimo Pjanic, ha servito di Salah, in profondità, alzato la testa, l'ex è stato nel frattino, ha visto l'inserimento, taci entra avanti di Sharawi, che l'ha piazzata dentro, con il piattone, non ha potuto nulla, dopo aver usato bene così. Adjana Ingolan, quasi no look, con l'esterno destro, dove c'è Florenzi, sulla destra, che lascia il controback romanista, corre di fronte a sé, corre anche Salah, eccolo qui Florenzi, palla proprio per l'egiziano, che la controlla, se la porta solo il mancino, vorrebbe appoggiarla per Perotti, ancora fuori per Salah, che tira in porto, deviato! 2-0 per la Roma, Mamo Salah, anche se la palla è stata deviata, il gol è assolutamente, del giocatore egiziano, Roma 2, Fiorentina 0 al venticinquesimo. E anche con un pizzico di fortuna, qui la Roma Gabriele, però ci importa il giusto, ce lo prendiamo e come questo gol? Pura Benzino, sempre per Astorico, aggredisce Perotti, soppia la palla, Perotti, Perotti, pomo, clamoroso! Tanto il dio qui del polacco in fuorigioco probabilmente, il Sharawi, un po' di petto, di vigne, il Sharawi dribbling, quasi era di rigore, il Sharawi dentro per Perotti! Diego Perotti, calcio champagne allo stadio olimpico, Roma 3, Fiorentina 0, Diego Perotti! E questa volta non l'ha sbagliata, Diego Perotti, bravissimo però, ancora una volta il Sharawi a tagliare fuori la difesa della Fiorentina con questo assist di esterno destro, perfetto, con i giri giusti, Perotti ha dovuto semplicemente toccare il pallone con il piattone, accomodarlo nella porta di Tana Rosanu, Roma 3, Fiorentina 0, qui è Roma Gabriele? Non è una partita Marco, è una mattanza fino a questo momento! Adesso il rigore per la Fiorentina, direi Ilicic. Ilicic contro Sosni, i fischi dello stadio olimpico, va Ilicic col mancino e palla in fondo al sacco, 3 a 1, gol di Josip Ilicic. Ora Malastra anticipare i calli, mi ce lo sta facendo per niente giocare, Piani c'è una cerchia di centrocampo, la alza bene, che apertura per Salah, Salah, Salah! Mohamed Salah! 4 a 1 per la Roma, al dodicesimo di questa ripresa, Mamo Salah! Ma che palla! Gli da Piani c'è Gabriele, una palla perfetta, con i giri giusti! Finisce qui, finisce qui, vibra il fischietto di Massimiliano Irrati di Pistoia, la Roma batte per 4 a 1 la Fiorentina, con i gol di El Sharawi, Salah, Perotti e ancora Salah, il pallo delle belle Marco, si è concluso col casquet per terra, ma la Fiorentina... All we need is somebody to lean on